guardate tutti insieme il finale di crash band youth 4 ci sono due cortex vediamo che fa questo del passato ehi ma si riguardano le immagini del primo crash band youth ecco rush ha fatto a scara una lampadina e l'ha rotta acano blocca cortez sei in castigo cortez sei prigioniero di nuovo trappolato nel tempo di nuovo i nostri eroi hanno vinto vediamo che fa dingo dai bene e ora vediamo cosa fa cortex qui su questa spiaggia non c'è nessuno a dargli fastidio vuole pace finalmente vuole pace guardate i nostri eroi coco e tana stanno giocando mentre crash dorme ma ora lo svegliano sta a te crash svegliati gioca tutte le maschere stanno guardando i nostri marsupiali arancioni abbiamo un orazzo mel winkler che dava voce acu acu dai vi saluto mettete un mi piace iscrivetevi al canale guardate i nostri amici non c'è nessuno a la stessa la stessa